Tutti i stress che esistono nei materiali, anche senza l'applicazione di alcun luogo esterno, sono termini di stress residuo. I stress residuo possono esistere in un componente e naturalmente aggiungere ai stress induziti da imparati. Per risultato, i stress residuo limitano la capacità di imparare e la sicurezza dei componenti meccanici durante l'operazione, e in alcune applicazioni è necessario essere capito di quantificerli. I stress residuo possono essere causati dai seguenti fattori principali. Non-uniform, heating or cooling of a component during manufacturing process, like casting, welding, molding and heat treatment. Plastic deformation or machining process to remove shavings, like turning, forging and grinding. Through or surface heat treatments, like tempering or welding, sandblasting or shot pinning. The Reston MTS 3000 is an automatic device for measuring residual stresses by the whole drilling string gauge method, in accordance with the ASTM 837 standard. The system is patented, produced and developed by Synth Technology, a company based in Florence, Italy. The MTS 3000 is able to measure the residual stresses into metals and other kinds of materials, both in the lab and on site. The whole drilling method consists in drilling a small hole, about 1.8 mm diameter and 2 mm depth, into the center of a special three element strain rosette. The hole changes the strains, allowing redistribution of the residual stresses originally existing in the material. The system is composed by a mechanical optical fixture and an electronic device with a set of accessories and spare parts. In particular, turbines and drills, connection cables, set of tools, software protection key, dial gauges, manometer and pressure regulator with air filter, manuals and software installation CD. The system is provided also with a small computer or tablet PC, including pre-installed software. The high speed turbine, for hundreds of thousands rounds per minute, avoids introducing any residual stress into the material during the drilling process. Moreover, different types of drills are available, based on the properties of the material to be tested. For the strain values acquisition, a digital amplifier is used, and a dedicated software allows the full test setup and the back calculation of the residual stresses starting from the measured strain. Both the software installation and the system connection are very easy, you just have to plug some cables and turn the system on. The internal operating space is proposed by remote tube by remote marketing. The softwareonneries have even more prolonged tools that file Le turbine e le trillze sono locati dentro la casa Per la loro riempimento devi riempire alcune ruote e fermare il tubo turbine con le strumenti disponibili con l'equipmento Per un buon riempimento dell'axi ottico e del trillante Per un buon riempimento di riempire il microscopio ottico dopo alcune ruote usando la trillante centrale e le 4 ruote del microscopio Questa operazione garantirà dei valori di eccentricità molto piccoli Dopo aver posizionato e collato il gauge di strumenti Puoi mettere il MTS-3000 in posizione e centrare l'equipmento con il gauge di strumenti con l'applicazione del microscopio ottico Il sistema potrà dettagliare la superficie automaticamente per un contatto elettrico In questo modo avrai un punto perfetto del test Prima di iniziare la misura Prima di iniziare la misura Puoi scoprire alcuni parametri custom come la profondità totale il numero di passaggi e la loro distribuzione le proprietà materiali il tipo di gauge di strumenti e amplificatore e il tempo di delay tra le passaggi Il test è completamente automatico con la visualizzazione di tempo realizzata delle strumenti rilassate durante il test Questo processo automatico assicura molto alta valutazione della vostra misura e questo è parte di risorgeno quando la voce delle strumenti e questo processo di riso Giovanna la vostra perché del processo di riso At the end of the measurement the system automatically stops and you can measure the whole diameter and save the results. Finally, you can open the EVAL backlight. You can use my calculation software where you can calculate the residual stresses in accordance with different algorithms, including, of course, the ASTM 837 standard. New EVAL features include eccentricity and local plasticity correction, powered three-dimensional graphs and automatic test report function. New EVAL 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 New EVAL